Una piazza del popolo gremita di persone per l'accensione dell'albero di Natale che ha dato il via ai 100 eventi in programma fino al 7 di gennaio nel centro storico pesarese. Una cerimonia suggestiva, quella di sabato 25 novembre, arricchita di luci, musiche e colori che hanno aglietato e sorpreso i tanti intervenuti all'inaugurazione ufficiale. Grazie a questa spionida piazza, a Pesaro nel cuore, grazie a Candela Candelara e grazie ai tanti mercatini che ci sono in giro per la provincia, oggi la nostra provincia è diventata dopo 30 Bolzano una delle emette più attrattive per il periodo natalizio. Si parte da qua, si finisce ad Urbagna con la festa della Befana ed è la dimostrazione che in questo periodo dell'anno abbiamo costruito un pezzo di turismo importante e che se ci crediamo possiamo rendere il nostro territorio sempre più attrattivo. E la tante persone che ci sono stasera, il tanto entusiasmo, lo testimoniano e ci danno la forza per andare avanti ancora più determinati di prima. Il tutto è iniziato dal conto alla rovescia che ha lasciato la piazza al buio e da una proiezione di un cartone animato sul palazzo delle poste che ha fatto scattare la miccia dall'alto portando all'accensione dell'albero da 70.000 luci a led e al tempo stesso si sono calati sulla folla tantissimi coriandoli con uno suggestivo spettacolo pirotecnico. Suggestiva anche la pista di pattinaggio formata da un grosso cuore rosso che ha caratteristico. Piazza del Popolo L'evento centrale dunque rimane Pesaro nel cuore che accompagnerà i tanti eventi natalizi locali e nella provincia ha sottolineato il sindaco Ricci ma che invita ai turisti a raccontare tramite le tecnologie di oggi il nostro territorio. Un grandissimo spettacolo ogni anno meglio ho visto le prove devo dire veramente molto emozionanti e oltre all'emozione che si vivrà in piazza i video che vengono ripresi poi faranno il giro di tutto il mondo e sono veramente una grande promozione per il nostro territorio a dimostrazione di come questi eventi poi hanno un ritorno negli anni e la ricaduta economica è tantissima. Il programma completo sugli eventi natalizi nel comune di Pesaro è visibile sul sito Pesaro Turismo.